sei ancora in vita e il mostro l'orso è morto e mi devi delle dracme ma prima parliamo di te arcadia giusto sì hai portato qui l'orso dall'arcadia ho trovato un registro del carico della tua nave e le tue impronte insanguinate parla va bene va bene trasportavamo l'orso per un uomo di nome sargon a poseidone aveva altri piani una tempesta ci ha sbattuto qui e quel maledetto animale si è liberato e se l'è presa con l'equipaggio questo spiega i cadaveri erano la mia famiglia hai sofferto abbastanza i deliani non correranno alcun pericolo ai cuore mistius una cosa rara come quel mostro prendi sono tutte le dracme che mi sono rimaste karen e non farti sorprendere dai deliani a sanguinare in giro sofferto